Windows 10 è sicuramente un ottimo sistema operativo, è veloce, fluido, sicuro ed affidabile e grazie a qualche trucchetto è possibile velocizzarlo ulteriormente, soprattutto se abbiamo un pc o un tablet con un hardware non particolarmente performante. Il modo migliore per migliorare leggermente le prestazioni su Windows 10 è quello di disattivare effetti visivi e di animazioni propri da Windows 10. Prima di tutto andiamo sulla casella di ricerca e scriviamo impostazioni avanzate, apparirà questa scritta qui visualizza impostazione di sistema avanzate, clicchiamo sopra, dopodiché andiamo nella scheda avanzate e selezioniamo impostazioni e prestazioni. Andiamo nella scheda effetti visivi dove già ci troviamo e cominciamo a spuntare alcune delle voci. Io consiglierei di togliere anima le finestre quando vengono ingrandite o ridotte ad icona, apri caselle combinate con effetto scorrimento, controlli di elementi animati delle finestre, mostra ombreggiature delle finestre, dopo di che clicchiamo applica e ok. Se lo desideriamo è possibile anche disattivare le animazioni non necessarie per aumentare ancora di più la fluidità del sistema. Andiamo sempre sul box di ricerca e scriviamo pannello di controllo. Andiamo su accessibilità e clicchiamo ottimizza visualizzazione. scurriamo in basso e alla voce visione facilitata per gli elementi sullo schermo andiamo a togliere lo spunta su disattiva tutte le animazioni non necessarie se possibile. Dopodiché clicchiamo applica, ok. E con questo abbiamo finito, da nicotine è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao! Grazie a tutti!